FALCIATO DA UN'AUTO PIRATA E' stato l'amico a chiamare immediatamente i soccorsi Un'ambulanza ha trasportato il ferito all'ospedale di Scorrano Ma i medici, valutata la gravità delle sue condizioni Ne hanno disposto il trasferimento al Fassi di Lecce Dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione La prognosi è riservata Ovviamente sono scattate subito anche le indagini Per rintracciare il pirata della strada I carabinieri hanno raccolto i primi elementi utili E sono sulle tracce di un'auto di colore chiaro Al vaglio degli investigatori anche i filmati ripresi Dalle telecamere di alcuni esercizi commerciali Che si affacciano sulla via incriminata Non meno importante infine il racconto dell'amico Che il suo malgrado ha assistito alla scena